Prosegue l'avvertenza Olicar, la ditta che si occupa della manutenzione degli ospedali dell'Aquila e provincia. Ieri in prefettura l'incontro tra la proprietà e i sindacati. Sono 90 in tutti i lavoratori coinvolti in questa avvertenza. La ditta in questione è in gravi crisi finanziaria e non riesce a pagare regolarmente gli stipendi ai lavoratori, che per esempio a settembre in busta paga hanno ricevuto soltanto un acconto di 350 euro relativi però al mese di agosto. Molti lavoratori tra i 90 coinvolti sono monoreddito per cui vivono di quell'unico introito. Dal 1 ottobre inizieranno una serie di assemblee con i lavoratori impiegati negli ospedali dell'Aquila, Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro e non è escluso uno sciopero che di certo porterà disagi nei vari nosocomi. La Olicar, vale la pena ricordarlo, è subentrata a gennaio 2013 ad un gruppo di società che prima gestivano la manutenzione dei nosocomi. Le difficoltà però, secondo i sindacati, sono emerse sin da subito, dall'annullamento del premio di risultato a quest'ultimo grave atto del mancato pagamento degli stipendi.